Un unico piano di protezione civile per i sei comuni dell'isola d'Ischia è l'obiettivo della nuova ordinanza varata oggi dal commissario Giovanni Legnini. Dopo l'approvazione del piano comunale di protezione civile da parte del comune di Casamicciola, con la nuova ordinanza vengono indicati gli obiettivi e le funzioni di ciascuno degli enti per dotare l'isola del suo primo piano di coordinamento intercomunale di protezione civile. Si tratta di un'operazione articolata che avrà come protagonisti principali le istituzioni locali e gli esperti del settore insieme alle associazioni e ai cittadini. L'obiettivo è ovviamente quello di giungere ad una celere approvazione di questo strumento. I tempi sono serrati. Entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza i comuni dovranno provvedere a fare una nuova mappatura dei rischi entro il mese successivo a revisionare i piani di protezione civile comunali e nei 50 giorni a seguire approvare il piano di coordinamento intercomunale. I comuni avranno un ruolo centrale anche nella promozione di attività di formazione e comunicazione mirate a sensibilizzare e a preparare cittadini e autorità competenti alla gestione di situazioni emergenziali attraverso esercitazioni di protezione civile. È prevista inoltre l'adozione di un sistema di allertamento alla propolazione uniforme su tutto il territorio nonché l'estensione negli altri cinque comuni dell'attività del presidio territoriale al momento operativo solo a Casa Micciola. Sempre con l'intento di accelerare le azioni di messa in sicurezza del territorio di Ischia infine con il provvedimento firmato nella giornata odierna vengono estese le deroghe al codice degli appalti previste per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza a tutti i soggetti attuatori delle opere contenute nel piano degli interventi di somma urgenza.